In un momento di crisi e disaffezione per la politica, la sua figura resta un modello di vita per molti, come esempio di uomo che ha servito lo Stato innanzitutto con il cuore. Parole dell'avvocato Nicola Giampaolo, postulatore della causa di beatificazione di Aldo Moro, ospite insieme al professor Giuseppe Lapietra di un incontro organizzato a Trani dalla sezione provinciale dell'Unione Italiana Cichi e Ipovedenti per far luce sull'impegno mostrato dal grande statista pugliese durante tutta la sua vita a favore delle fasce socialmente più fragili e in particolare delle persone con disabilità visiva. Ogni volta che veniva in Puglia una tappa fissa era quella di andare a trovare questi nostri ragazzi che all'epoca studiavano in istituto e quindi parlava con loro, sentiva le esigenze, quali erano le problematiche che emergevano. Si fermava con loro a volte anche a pranzo per stare con loro, per godere di questa vicinanza e di questa cosa. Mentre per quanto riguarda Roma i dirigenti anziani ricordavano che all'inizio degli anni 70 non appena Aldo Moro divenne segretario della democrazia cristiana chiese un incontro ai dirigenti dell'epoca per conoscere, sapere quali erano le problematiche, i bisogni dei non vedenti per farsene carico e poter dare risposta ai nostri bisogni. Oggi è sempre più difficile trovare dei riferimenti istituzionali che difendono i diritti delle persone con disabilità visiva. Politici della statura e della sensibilità di Aldo Moro ammettono amaramente dall'Unione Italiana Cechi, appartengono solo al passato. Purtroppo le sensibilità, i sentimenti nel tempo sono anche mutati e le sensibilità di certi uomini di tipo Aldo Moro purtroppo diventa difficile riscontrarli in coloro che attualmente si occupano di politica. Grazie.